A poco più di un anno dall'incoronazione avvenuta il 6 maggio del 2023, re Carlo Tetrezzo ha svelato a Buckingham Palace il suo primo ritratto ufficiale da sovrano del Regno Unito. Il dipinto, che misura 2,6 metri d'altezza e 2 di larghezza, è stato realizzato dal ritrattista britannico Jonathan Yeo, che si è fortemente concentrato sui toni rossi, raffigurando il sovrano con l'uniforme delle Welsh Guards e una farfalla che gli vola sopra una spalla. L'opera era stata commissionata nel 2020 per celebrare i 50 anni di Carlo come membro della Draper's Company, una delle storiche corporazioni di Londra. L'artista aveva iniziato il lavoro prima dell'incoronazione e per realizzarlo ha effettuato quattro sedute, l'ultima nel novembre 2023. Quando ho iniziato questo progetto, Sua Maestà era ancora Sua Altezza Reale il Principe di Galles e, proprio come la farfalla che ho dipinto sulle sue spalle, questo ritratto si è evoluto man mano che il ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica si è trasformato. Ha riferito Yeo, che in passato ha ritratto altri leader politici e personaggi famosi, come David Cameron e Tony Blair, Idris Elba e Cara Delevingne. Il risultato è stato molto apprezzato dallo stesso protagonista e anche dalla sua consorte Camilla. Lei è riuscito a catturare chi è davvero, le parole della regina registrate dalla BBC che ha anche riferito quelle dell'artista, secondo cui il re è rimasto sempre perfettamente fermo in piedi, senza distrarsi come fanno altri a cui ho fatto il ritratto. Il ritratto sarà esposto al pubblico presso la Philip Mould Gallery di Londra dal 16 maggio al 14 giugno. Poi, dalla fine di agosto, passerà permanentemente alla Draper's Hall, storico palazzo nel cuore della capitale. Intanto, sulle condizioni di salute di Re Carlo, tornato agli impegni pubblici dopo essersi sottoposto alla chemioterapia per curare il cancro, non sono trapelate più notizie ufficiali. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.